Buonasera dal TGN, era il primo dei titoli del nostro sommario tra Milano e l'Interland. Sono cinque i casi di violenza sulle donne registrati nelle ultime ore. I responsabili sono stati tutti arrestati. L'amministrazione cittadina milanese risponde a questa emergenza dando uno spazio alla sala Alessi di Palazzo Marino per un incontro sul tema organizzato dall'associazione Senonora Quando. Sentiamo Jacopo Casoni. Cinque casi solo a Milano città tra il 28 aprile e il 10 maggio. Cinque casi tra il capoluogo e l'Interland nella giornata di oggi. Quella degli abusi tentati e riusciti nei confronti delle donne rappresenta una vera e propria emergenza. Limitandoci alle ultime ore, due uomini sono stati fermati a Milano e altri due a Seregno, nordafricani e asiatici, due e due. Presi in flagranza o subito dopo il fatto, sorpresi a palpeggiare le loro vittime in un caso lo stupro si è purtroppo consumato. Il caso più becero, l'ultimo, è quello che ha portato all'arresto di un ex camionista italiano, Reo, di aver aggredito una cliente del centro estetico di Piazza L'Aquileia dove lavora come receptionist. La ragazza è minorenne, ha 17 anni. Un escalation che mette i brividi, brutture, un fenomeno che racconta un degrado sociale e morale, una deriva culturale che produce storture raccapriccianti. Questa analisi è stata fatta proprio anche da Pisa Pia con il sindaco che ha invitato a un'indagine di un maschilismo dilagante. Stasera in Sala Alessia, Palazzo Marino, l'associazione Se non ora quando, riflette sul tema. Una risposta anche istituzionale, visto il luogo molto simbolico concesso per l'evento. C'è anche la CGL, presente Susanna Camusso. Serve una svolta, serve qualcosa che completi quell'attenzione alla sicurezza che comunque la città chiede e pretende dai propri amministratori. Anche perché quella delle violenze sulle donne è un'emergenza che in buona parte resta nascosta, chiusa dietro la porta di casa. È un problema che va ascritto ad un problema culturale, quindi bisogna affrontarlo andando anche a parlarne nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro, e proprio veramente per modificare una cultura che è degenerata e che è degradata sempre di più.